La parte naturalmente dal professor Brancato e ci ha fatto molto piacere perché insomma in qualche maniera ha dato un valore a un posto al sole che effettivamente ci sentiamo di avere, cioè quello fondamentalmente di essere specchio insomma in qualche maniera della società in cui viviamo. E' sempre stato un nostro obiettivo questo. Il segreto del successo, naturalmente come diciamo spesso se noi avessimo una formula o una ricetta che ci garantisse il successo avremmo molti meno problemi, insomma faremmo una vita più. Per cui il successo di un posto al sole comunque penso che sia soprattutto in questo, insomma nell'essere riuscito a creare una familiarità con il pubblico, con un appuntamento quotidiano che la gente ha vissuto come una realtà se vogliamo parallela e che comunque fa parte del proprio vissuto.